messaggio straordinario della vergine maria regina della pace per mezzo di ivan del 24 giugno 2021 cari figli mi sento felice il mio cuore è gioioso anche oggi desidero invitarvi ad essere il mio segno vivente il segno della mia presenza anche oggi desidero invitarvi affinché viviate i miei messaggi sappiate figli miei che io vostra madre sono sempre in cerca di voi anche nei momenti più difficili intercedo per tutti voi davanti a mio figlio grazie cari figli per aver risposto anche oggi alla mia chiamata